Nubi minacciose si addensano sulle spiagge marchigiane e non è solo un discorso meteorologico. Il presente parla di mucilaggini che rischiano di rovinare la stagione, il futuro prossimo non fa invece dormire sonni tranquilli per via della sempre ingarbugliata questione Bolkenstein. Ma l'ipotesi di una serrata degli ombrelloni ad agosto, sia pure per un'ora, lanciata dal presidente regionale SIB Romano Montagnoli, non scalda particolarmente i cuori del popolo dei balneari. Penso che sia deleterio per i clienti e per noi in primis. Io appartengo al popolo produttivo, siamo andati a Roma, siamo andati a Bruxelles, le manifestazioni si fanno in altri sedi, non certo in spiaggia. Se si tratta di un'ora di sciopero la si può fare ma non credo che serva qualcosa, serve solo per far notizia magari, per carità, ma se non ci hanno aiutato fino adesso non credo che serva quell'ora. A preoccupare soprattutto la situazione di grande incertezza imperante, per la quale gli operatori del settore individuano i responsabili, anche nelle istituzioni e in chi sostengono avrebbe dovuto tutelarli. Stiamo arrivando alla fine della stagione e ancora non ci sono linee guida, non c'è nessuna chiarezza, il governo silenzioso e la stiamo vivendo molto male e siamo veramente preoccupati. Credo che ci sentiamo un po' abbandonati dallo Stato. È una situazione molto triste che stiamo vivendo con apprensione e tanto tanto dispiacere. In questi vent'anni i sindacati hanno decisamente fallito tutti quanti. Grazie. 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 Grazie.